Bravo! Minichè, Uitreri, Mixology e Chabachead è il nuovo ristorante inaugurato sul lungomare Sant'Angelo di Rossano, oltre che punto di riferimento per l'enogastronomia marinara territoriale. Ambisce anche a fare educazione alimentare, invitando i propri ospiti sin dal suo menu a preferire il pesce fresco di stagione e dei nostri mari esposto in vetrina. Minichè deriva da Iminichèd, che è una delle famiglie marinare della storia marinara di Rossano e abbiamo pensato di trasformare in un brand particolare questa storia di cui questa famiglia va orgogliosa. Veniamo da generazioni dove siamo sempre stati investiti nel mondo della marineria, poi ci siamo affrontati col tempo con una piccola ristorazione da Gennarino con Cotura, insieme ai miei fratelli. Le prospettive sono quelle di portare un po' di cultura sulle nostre tavole. Ciò che rende Minichè unico è anche la sua innovativa carta degli extravergine di oliva, un omaggio agli olii locali che arricchiscono le pietanze del menu. Per esempio nei quattro menu di Minichè troverete la trasparenza, cioè tutti i prodotti, i pesci sono indicati per la loro provenienza, la tipologia, quindi uno può scegliere tranquillamente, faccio un esempio, un gamberone argentino o un astice nordamericano, però sapendo che la provenienza è quella, che è un pesce congelato a bordo, un pesce congelato, quali sono i prodotti, quindi oltre le prescrizioni normative, vi è un rapporto di fiducia, di chiarezza e di trasparenza e un invito, ripeto, a preferire il pesce autentico dei nostri mari, insieme ai vini del nostro territorio che sono presenti nella carta dei vini e la grande novità, la grande novità che è sicuramente un unicum in questo territorio in questo momento, è la carta degli extravergine d'oliva che ambisce a ricucire questo gap che per troppo tempo c'è stato nella nostra ristorazione, tra il principale prodotto di questa terra che è l'extravergine e l'assenza purtroppo in tanti casi ancora di bottiglie di extravergine di qualità dei nostri territori nei menu e anche sulle tavole della nostra ristorazione. Il personale selezionato con cura dall'Istituto Alberghiero di Corigliano Rossano riflette l'impegno nella formazione di giovani professionisti dell'ospitalità e del management culinario. I piatti principali qui al Minichè sono il pacco alla gennarino che è adagiato su una crema di scampi e gambero viola di cariati. In questa esperienza Minichè ci sono diverse componenti che vengono da quel polo scolastico del Majorana e quindi anche da questo punto di vista è una parabola che si chiude e che apre speranza per tanti giovani che possono dire io voglio essere un professionista della terra, della ricettività e del turismo esperienziale in questa terra, posso riuscirci, ritorno grazie anche al Majorana e ad esperienze come Minichè. Grazie a tutti per aver guardato il nostro corso gratuito. Grazie a tutti.